adesso io andrò alla clinica ci vado veramente e vi devo dire grazie perché per te e per voi che ci vado allora per tutti coloro che non credono a voi non è che dovete credere allora noi siamo quell'immagine che avete visto che andrea saliva la comunità andrea sta qui la comunità è stata saldata per un mese perché questa è una comunità di recupero cieca e ovviamente privata io ho pagato la prima mensilità questo che vuol dire io ho dato 5 mila fratelli gli ho dato 5 mila questo vuol dire che andrea lunedì entrerà adesso andrea è con me e quindi non è che noi vi stiamo facendo vedere cose non vere andrea è entrato abbiamo parlato ovviamente con un interprete perché andrea doveva capire piuttosto bene il brasiliano gli ha lasciato 5k io